Sì, è arrivato quello nuovo, fa sparire tutto, chi è? Ma chi è? Oddio, mamma, siete qua, ma dai! C'è arrivato quello nuovo, non voglio mica chiusire la mia roba, poi aspetta, via il microfono, via qui gli audiovisivi, via 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 via, non avete visto niente, guardate le previsioni. Previsioni per domenica 15 ottobre, al nord in Lombardia, al mattino soleggiato e stabile sia sui settori interni che sulle coste, al pomeriggio ancora sole, prevalente, condizioni di generale stabilità su tutte le regioni. Sul resto d'Italia, al mattino cieli generalmente sereni con tempo stabile su tutti i settori, al pomeriggio ampi spazi di sereno, sempre con condizioni di generale stabilità, sia sul versante adriatico che su quello tirrenico, temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Il meteorino lì nuovo, questo gliela do io, la pago, via la piantina, ombrella, mia parrucca, la mia parrucca preferita, quella di Lorella Cuccarini, l'ha anche usata, ma no, no, via via, nessuno ha visto niente. Ricordatevi di stare sereni, perché su CronTV splende sempre il sole, ma solo quando dico le previsioni, solo quando le dico io.